In questo boschetto di fontana fredda è stato trovato privo di vita Alessandro Coltro, 48 anni l'artigiano che lavorava a Chiarano in un'azienda assieme ad un socio da qualche anno. Oggi nella sede della Water Service nessuno rispondeva, ma in realtà, spiegano alcuni imprenditori e lavoratori della zona, i due soci non si vedevano spesso in zona. La ditta quasi sempre chiusa, un giallo così come rimane per l'omicidio del 48enne, residente nel Sacilese, trovato con un colpo d'arma alla nuca. Un piccolo calibro, forse una .22 che non è stata ancora trovata dagli investigatori. Nel video del messaggero Veneto, le immagini del luogo dove è stato trovato il corpo. Una persona tranquilla, appassionata di calcio, amata e benvoluta. Lo descrivono così i vicini di casa e gli amici. Il corpo è stato trovato poco lontano dalla sua auto, ferma nel parcheggio, portiere aperte, il suo cellulare sul sedile. L'ultimo messaggio che avrebbe inviato su WhatsApp intorno alle 19.30, poi il silenzio. È stata la madre dell'uomo a lanciare l'allarme dopo non aver avuto più notizie del figlio. Una ricerca che è durata poco tempo. Prima è stata trovata la macchina, poi il suo corpo. Gli investigatori non escludono nulla, ma mantengono il più stretto riservo. Non ci sarebbe al momento nessun movente. Forse in quella zona doveva incontrare qualcuno. Nessuno sembra aver sentito niente. I carabinieri di Pordenone, che stanno indagando e ne a queste ore, stanno anche visionando le immagini delle videocamere di sicurezza. Forse i filmati potranno dare delle risposte. Il corpo non sarebbe stato trascinato fino al boschetto. Coltro sarebbe andato con le sue gambe in quella zona. Perché forse è costretto da qualcuno? Troppe domande che ancora non hanno una risposta. Si attende ora l'esame autoptico, che dovrebbe essere eseguito nelle prossime ore. In tanti militari stanno sentendo tutti, il socio, gli amici, la famiglia, per chiudere il cerchio su quello che per ora è un omicidio avvolto nel mistero.